Adesso basta, io sono abituato a misurare le parole ma chiedo a Roberto Di Piazza di smettere di fare battute e di minimizzare e di prendere atto che Trieste ha un problema a sicurezza grande come una casa. In questa città ci sono risse, ci sono furti, ci sono ragazzi che muoiono per overdose, non è la Trieste che conosco e che tutti quanti amiamo. Il segno è la conseguenza del degrado economico e sociale di questa città, dei tanti giovani che vanno via perché non trovano lavoro e del posto che prendono le bande di delinquenti che abbiamo visto. Ed è il segno della debolezza di un'amministrazione che in queste ultime settimane sta dando veramente il peggio di sé e che dimostra che questa città è fuori controllo in troppe situazioni. Una città in cui non si fanno le opere pubbliche, in cui c'è tanta sporcizia, in cui ci sono risse e i topi scorrazzano allegramente in giardino pubblico. Allora questo non è questione di centro-destra o di centro-sinistra, è un problema di idee, di programmi ma soprattutto di persone nuove. Perfetto.